Resta caldo il fronte israeliano con il Libano. Nuovo attacco degli Hezbollah contro Israele, due feriti in Galilea, dopo il drone che due giorni fa ha ucciso a Necura, nel sud del Libano, Abbas Ahmed Alil, miliziano nipote della lidere di Hezbollah, Hassan Nasrallah. E così atteso a Beirut, il negoziatore statunitense tra Hamas e Hezbollah, Amos Oxtein, perché filtrata la notizia secondo la quale per la prima volta soldati israeliani avrebbero tentato di entrare in territorio libanese, alzando così il livello dello scontro. Ma nel frattempo sono ripresi i colloqui al Cairo, che secondo fonti egiziane stanno facendo progressi significativi verso una tregua tra Israele e Hamas. Eppure è assente proprio il governo di Tel Aviv, almeno fino a quando non verrà consegnata la lista degli ostaggi ancora in vita, mentre i familiari dei rapiti continuano a far sentire la loro voce. Negli sforzi diplomatici si inserisce l'arrivo questa mattina a Washington del primo ministro del Qatar, Mohamed Bin Abderrama Altani. Israele deve fare molto di più per far arrivare gli aiuti a Gaza, non ci sono scuse, ha scandito la vicepresidente USA, Kamala Harris. L'Italia promuoverà una nuova iniziativa umanitaria per la popolazione di Gaza, ha annunciato il ministro degli esteri italiani. Mentre in più raid israeliani, a Rafa e nella striscia, questa notte sono state uccise almeno 25 persone e una sedicenne nel campo profughi di Ramallah, in Cisgiordania, dove era in corso una protesta.